In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Carissimi fedeli, oggi comincia l'anno liturgico della Chiesa e allo stesso tempo il santo tempo dell'Avvento in cui ci ricordiamo della venuta del Signore a Natale, preparandoci per essa con una preparazione interna delle nostre anime. Più seria sarà la nostra preparazione in Avvento, più grande sarà il frutto spirituale per noi a Natale. Difatti, ogni festa della Santa Chiesa può portarci un frutto spirituale. Ogni anno che assistiamo alla celebrazione della festa di Natale possiamo ricevere di nuovo un frutto spirituale del bambino Gesù. Prepariamoci dunque bene per questa festa, almeno per quest'anno. Come ci possiamo preparare? Innanzitutto la preparazione si deve adeguare alla festa. Mentre in Quaresia ci mortifichiamo in unione alla sofferenza di nostro Signore, per godere poi della sua vita gloriosa a Pasqua, in Avvento ci discipliniamo piuttosto in una specie di attesa allegra del bambino divino. Non cerchiamo grandi piaceri in questo tempo, anticipando le gioie di Natale, ma aspettiamo la festa natalizia per prendere in essa la nostra gioia. Vediamo dunque che una certa disciplina, uno spirito di moderazione in tutte le cose ci conviene a questo tempo. Inoltre, come in vista di ogni grande festa della Chiesa, la purificazione dell'anima è richiesta. Se noi viviamo nel peccato mortale, adesso è il tempo per convertirci e fare penitenza, docili agli ammonimenti di San Giovanni Battista. Lo stesso vale per il peccato veniale e altrettanto per le nostre imperfezioni. Perché perseveriamo nel peccato e nelle imperfezioni, quando sappiamo che a Dio non piace? San Paolo ci dice oggi, la notte è trascorsa, il giorno è vicino. Rigettiamo dunque le opere delle tenebre e vestiamoci delle armi della luce. Non viviamo dei piaceri eccessivi e dei sensi, nell'immodestia, nei conflitti con altri, ma vestiamoci nel Signore Gesù Cristo. Noi abbiamo la fede. Se siamo nel peccato e non sentiamo la forza, nel coraggio e nella voglia di combatterlo, preghiamo il Signore che ci dia la forza. L'ora è venuta, adesso, per svegliarci dal sonno, ci dice San Paolo, e per essere concreti ci chiediamo cos'è il nostro peccato vizio dominante. Riflettiamo e quando ce ne siamo accorti tiriamo nelle conseguenze e combattiamolo. In una parola, il nostro compito nell'Avvento è quello della conversione, di preparare il nostro cuore alla sua venuta, come un presepio degno dell'Altissimo. Meditiamo spesso sulla sua venuta imminente, leggendo l'inizio del Vangelo di San Luca e visitandolo nel tabernacolo. Dom Guéranger scrive, durante il tempo di Avvento, nostro Signore bussa la porta dei cuori degli uomini, talvolta forte, talvolta piano. Lui viene per chiedere se hanno un posto per lui perché vuole essere nato nella loro casa. La casa è comunque la sua perché lui l'ha costruita e la conserva, ma si lamenta che i suoi hanno rifiutato di riceverlo, almeno la maggior parte. Preparatevi dunque a vederlo nato dentro di voi, più bello, più radiante, più potente che l'avete mai conosciuto. Questo dunque è il nostro compito in Avvento, che proviamo a fare con tutto il cuore, con l'intercessione della Santissima Madre di Dio, come anticipo del nostro incontro definitivo con il Signore in cielo. Amen. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Grazie a tutti.